Patricia Roberta Cervi è una stilista che crea abbigliamento, accessori ed oggettistica all'uncinetto. Ci parla del suo brand Daphne Creazioni in 5 minuti. Raccontaci un po' da dove deriva l'idea di portare alla ribalta questa antica arte che è appunto l'arte dell'uncinetto. Dalla noia di vedere tutto uguale in giro, ho voluto portare una cosa vecchia, portarla in un modo moderno, in un modo intanto perché è molto resistente a differenza di molti abiti attuali e soprattutto perché non c'è. Da quanto tempo lavori all'uncinetto? La bambina mi avevano insegnato, dopodiché sono 5 anni che ci sto dando dentro come una pazza, anche perché è un lavoro lunghissimo e quindi uno deve darci dentro. Chi è che ti ha insegnato l'arte? Mia mamma, mia nonna e gli occhi, perché io ho un difetto, sono un tecnico di qualità, rubo il mestiere con gli occhi. Tu hai creato questo brand Daphne Creazioni, da dove deriva intanto il nome Daphne? Dalla mia gatta. Tutto in famiglia quindi. Realizzi tutto tu dall'idea fino alla realizzazione vera e propria o hai qualcuno che ti aiuta? Sono assolutamente da sola, parto da un disegno che viene posizionato, faccio una prima mattonella che è fatta da un disegno, viene posizionato sul manichino e da lì praticamente mi addentro ad alzarlo, ad abbassarlo, fargli la forma e tutto quanto. Non ho collaboratori perché brutte esperienze, poi è un lavoro un po' particolare, non ho intenzione di… Ho provato a lavorare con altra gente, ma è sempre il solito discorso, sono un capricornaccio, la percussione deve essere perfezione. I clienti come li trovi? Io propongo una linea, la mia idea, propongo in Facebook, in Instagram, ho fatto anche un sito che adesso sto appunto mettendo in ordine perché l'avevo solo abbozzato. Quindi dicevamo tu realizzi dei bozzetti che poi proponi e il cliente può eventualmente richiederti l'inserimento di quello che tu realizzi all'interno del proprio capo oppure sono capi fatti solo ed esclusivamente ad uncinetto? Sono totalmente fatti all'uncinetto, ma do la possibilità intanto alla persona di cambiare la taglia, di cambiare il colore, di prendere la gonna di un tipo e il corpetto di un altro, cioè do la libera scelta totale. Io propongo un'ideologia, naturalmente se piace gliela ripropongo uguale nella taglia e nel colore che desiderano, ma do la possibilità anche di fantasticare a una persona di poter cambiare le cose. Quanto tempo ci impieghi mediamente per realizzare un abito? Perché parlavi prima di gonna e di maglia anche, per cui immagino che siano dei tempi abbastanza dilatati. Dunque, un vestito lungo, medio, quindi dritto, va dalle 25 alle 30 ore. Non sono lavori veloci. Abiti molto larghi, tipo un abito da sposa che ho realizzato per una nota presentatrice, ci ho impiegato 70 ore. Per quanto riguarda invece l'oggettistica, che tipi di accessori realizzi? Borse, fasce per capelli, pashmine, scialli, qualsiasi cosa che sia l'accessorio complementare ad un vestito. Chi è invece il cliente tipo che si rivolge a te? Una donna che si senta donna, una donna che vuole valorizzare il suo corpo, perché premetto io ho la linea curvi, ho la linea delis, che è la linea per le persone, brutto da dire, ma più basse di quelle del metro e settanta, e la linea per le persone, quindi andiamo dal metro e settanta al metro e ottanta. È rivolta alla persona che si vuole sentire donna, perché intanto ha un capo che praticamente la veste molto leggermente con una sottoveste, secondo è un capo che dura anche dieci anni, quindi se gli piace se lo gode più che può, e terzo perché sono stanca di vedere le donne vestite come dei fagotti. Progetti per il futuro invece? Come vedi sviluppare la tua attività da qui ai prossimi anni? Lentamente, questi tempi, però la speranza è quella proprio di farne più possibile, mi piace, indipendentemente dal discorso economico, mi piace vedere il mio capo camminare, mi dà orgoglio vedere il mio capo camminare e mi dà orgoglio vedere la persona che è orgogliosa lei stessa di portarlo, quella è la gioia più grande che ho, quindi spero di poterne piazzare tanti. Tra l'altro tutte queste creazioni le possiamo vedere sul tuo sito, che è? Io sono in una pagina Facebook che si chiama Patricia Cervi, dopodiché c'è la pagina Daphne Creazioni che porta appunto sempre in Facebook tutte le cose realizzate, e poi in Instagram che è robertacervi70, lì c'è tutta proprio la lista dei vestiti attualmente in casa. Se qualcuno volesse mettersi in contatto con te, quali recapiti ci lasci? Allora la mia mail, robertacervi70-gmail.com Io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. È stato un onore grandissimo e un piacere immenso, grazie mille e buona giornata a te.